Sono 312 nuovi casi covid in Calabria registrati nel bollettino odierno della Regione. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 4, 149 le persone guarite, su un totale di tamponi effettuati 3.569. Le persone dunque risultate positive al coronavirus in totale in Calabria sono 62.950 più 312 rispetto al giorno precedente. I casi sono distribuiti così in provincia di Cosenza a 141, a seguire provincia di Reggio Calabria con 67, poi Catanzaro con 36, Crotone con 37 e Vibo Valenza con 31 positivi. Intanto in provincia di Catanzaro dal punto di vista dei vaccini statistiche da record nel fine settimana. In particolare il picco statistico è stato toccato nella giornata di sabato, quando la provincia è arrivata a oltre 4.600 inoculazioni in una sola giornata, più di un quarto dell'intera Regione. Il tutto arriva in un periodo che sta facendo segnare una diminuzione dei nuovi casi, ricovera e decessi dall'inizio della pandemia. E ancora comunque la provincia brucia a pagare il prezzo più alto in termini di contagi. Nella giornata di ieri sono stati, dicevamo, 141 i casi registrati, in lieve aumento rispetto al giorno precedente in cui se ne contavano 116. Nel dettaglio ci sono due ricoverati in più nel reparto dell'azienda ospedaliera di Cosenza, 3 a Rossano, 141 in isolamento domiciliare, ma anche due guariti in terapia intensiva e due pazienti dimessi ad Acri e 4 a Catraro. A fronte dei mille tamponi processati, l'indice RT in provincia di Cosenza ha una positività risultata stabile al 14,1% nel giorno precedente e il 14,9%. Tra i decessi si registra un dipendente della provincia di Cosenza ad esprimere il cordoglio in prima persona, lo stesso presidente Iacucci. Tira anche un respiro la città metropolitana di Reggio Calabria, che comprende l'ex provincia. La curva dei contagi è in chiara frenata e ieri addirittura nessuno è morto. Ma se da un lato c'è una tregua dei decessi e si registrano 67 nuovi positivi e 109 nuovi guariti, dall'altro c'è un incremento dei ricoveri al gom. Si passa da 101 a 106, resta sempre alto il numero dei casi attivi, sono 2.251. E tra i comuni rimane la piana di Gioia Tauro, quella più colpita dal virus, dal piccolo comune dell'Ea Nuova, che due giorni fa ha incassato la seconda proroga della zona rossa, a centri più grandi come quello di Palmi e Cittanova. Nell'ultima settimana, stando a bollettino diffuso ieri sera, a Palmi si sono registrati 22 nuovi casi da Covid, 111 attualmente positivi. In Cittanova un leggerissimo calo di positivi, dove però il quadro è ancora serio, 92 casi attivi. E poi in Rivallo Stretto il virus sta minacciando anche Bagnara, 41 casi attivi. Nella Locride sono pochi i nuovi contagi e i comuni, dove generalmente la fase era più critica come Bovalino, non registrano attualmente nuovi casi.